La parola parroco fa venire in mente due esempi famosissimi. Il pavido don abbondio dei promessi sposi, quello del matrimonio a sorpresa di Renzo e Lucia, che ha regalato momenti di larità, talvolta amara, al capolavoro del Manzoni. Ed il battagliero Don Camillo, che con il suo nemico amico Peppone hanno scritto pagine tra le più divertenti e nazionalpopolari di Guareschi. Nella Valle Caudina non ci sono bravi da affrontare o comunisti da battere, eppure non si sta certo tranquilli. A Montesarchio, Don Silvio Pepicello si è dimesso da parroco di San Giovanni Battista. Nulla da eccepire se non fosse che la sua auto, il primo di maggio, è stata data alle fiamme, tra l'indifferenza dei concittadini, allora come oggi. Le indagini vanno a rilento e dunque il sacerdote decide di andare via. A Cervinara, Monsignor Vito Cioffi, parroco di San Potito e San Marciano da circa 40 anni, rende noto per vie traverse che l'arcivescovo ha deciso di mandarlo in pensione entro il prossimo 4 agosto. Cioffi viene pensionato a dispetto dei suoi 70 anni ancora da compiere, con altri suoi confratelli ben più avanti d'età che restano comunque alla guida delle rispettive parrocchie. In assenza di una spiegazione da parte della Curia su questo pensionamento, per dir così anticipato, il Paese, o meglio una parte di esso, è insorto, organizzando una raccolta di firme. A San Martino Valle Caudina, da mesi, il parroco Don Salvatore Picca difende a spada tratta l'operato del ministro degli interni Matteo Salvini, scagliandosi nel contempo contro la stessa chiesa, rea secondo Picca, di travisare le parole di Papa Francesco. Una posizione sicuramente originale e scomoda, che fa guadagnare al sacerdote visibilità nazionale, ma che inevitabilmente divide il Paese. Il parroco non fa una piega anche al cospetto dei detrattori, ed anche in questo caso la Curia resta in silenzio. La confusione non fa certamente bene all'immagine dell'istituzione parrocchia, luogo di diatribe più che di rifugio dalle umane miserie. In attesa magari di un intervento chiarificatore dell'Arcivescovo, ci si chiede in Valle Caudina quale sarà il prossimo parroco a salire alla ribalta delle cronache locali e nazionali.